E' indegno di un paese civile. E noi siamo quelli che stanno difendendo il fatto che l'Italia ancora rimanga un pochino un paese civile. E vinceremo questa battaglia. Buona serata, ben ritrovati amici di Borderlands 19 e 19. Volevo subito salutare e mandargli chiaramente un abbraccio, braccio di ferro che ci scrive carissimi Fabio Alessandro, vi saluto da un maledetto letto di ospedale pubblico. Speriamo bene, stasera almeno passa meglio grazie a voi. Quindi sapere di alietare, non so come, francamente, però di alietare questa permanenza ci scalda il cuore. Ciao Alessandro, benvenuto. Ciao Fabio e un saluto a braccio di ferro. Ovviamente che il nome gli sia di buon augurio. Dai, speriamo che si rimetta presto e che possa uscire da quel luogo triste, comunque pubblico o privato che sia, è triste. E allora, un saluto poi a Franco, a Teo, LS, chi era il primo? Il primo è stato Andrea, che salutiamo. Poi c'è Livia, Luisa, Paola e l'immancabile Sonia. Benissimo, allora, e la fungheria, è la fungheria Luigi Batacchio, non può mancare. Allora, vorrei partire prima di entrare nel vivo di alcune questioni, però mi piace con te Alessandro proprio ragionare anche di situazioni qua, qualcuno definirebbe anche filosofiche o altro, però che poi hanno un impatto sulle nostre scelte. Cioè, abbiamo vissuto quello che tutti sappiamo dal 2020 in poi e quindi è stato un sussulto, cioè ci siamo visti perseguitare, obbligare, rinchiudere, abbiamo visto insomma di tutto e di più quello che non avremmo mai pensato di vedere. Però non è che fino a quel momento le cose erano, ecco, ideali. Cioè, comunque noi abbiamo aderito, bene o male, a tutta una serie di obblighi che abbiamo dato per scontato come giusti, come diritti del cittadino, ce li hanno venduti e spacciati, in ogni modo, ma che se io ben ci rifletto, ad esempio sulla scuola ci riflettevo in questi giorni, perché l'altra sera abbiamo avuto ospite, proprio un insegnante che ha scritto un libro sul disciplinamento dell'infanzia, lo saluto anche Pasquale Torci, guardate l'intervista perché è stata molto interessante, che ha raccontato come è nata la scuola. La scuola è stata molto interessante, sì, molto bella. E quindi mi ha fatto un po' riflettere, ad esempio, della scuola. Cioè, noi accettiamo che la scuola sia obbligatoria, addirittura appunto il governo Meloni ha anche, se non sbaglio, inasprito le misure per i genitori che non mandano i loro figli a scuola. Ma la scuola è solo uno degli esempi, tu spesso citi le tasse, oppure lo stesso concetto di sanità, appunto. Cioè, mi pare che in quelli che sono stati dissidenti c'è stato sì questo grande sussulto, questa presa di coscienza, però forse ancora si è troppo imbevuti di questo sistema nel quale siamo cresciuti, dove non ci ha permesso di scegliere, no, già fin dalla nascita. Sì, sai che sono perfettamente d'accordo. Intanto diciamo una cosa, l'attacco alla libertà è iniziato ben prima del 2020. È vero che noi oggi, ripensando al 2019 e agli anni precedenti, ci sembra un periodo di grande libertà e benessere. Ma in realtà, se guardiamo bene, se vediamo quello che è successo in una prospettiva un po' più ampia, ci rendiamo conto perfettamente che non è così. Chi ha i capelli bianchi come me e si ricorda bene ancora agli anni 90, agli anni 80 e magari qualche pezzettino degli anni 70 sa perfettamente che le nostre libertà si sono progressivamente ridotte sempre di più. E in realtà chi va più indietro ha ancora di più questa impressione. Noi siamo costantemente circondati da una quantità di regole, burocrazie, norme, impedimenti a qualsiasi tipo di attività, anche le più innocenti e le più semplici, che è una progressione continua. In effetti la libertà non si perde tutta insieme o quantomeno chi ce la vuole togliere non attuerebbe una strategia intelligente se ci togliesse la libertà improvvisamente, come con un'occupazione militare o con un blocco totale delle attività da un giorno all'altro, anche se nel 2020 è stato fatto quasi questo. Invece la strategia è una strategia di lungo termine, è la famosa strategia della rana bollita di cui parlava Noam Chomsky, per cui siamo in questo pentolino sotto il quale la temperatura sale, sale sempre di più, ormai diciamo che siamo al punto di ebollizione, però la progressione è stata evidente ed è evidente anche nel corso di un periodo più lungo, perché è vero che se noi per esempio vediamo quello che è successo nell'immediato dopo guerra, dopo la seconda guerra mondiale, c'è stato sicuramente un ripristino di molte libertà, soprattutto nei paesi come l'Italia o la Germania che erano stati funestati oltre che dalla guerra, dalle dittature. Però in generale l'evoluzione dall'Ottocento ai giorni nostri è quella di una perdita progressiva della libertà, gli stati che emergono dalle rivoluzioni settecentesche e che iniziavano come stati minimi, come stati che sarebbero stati non solo rispettosi delle libertà ma comunque difensori delle libertà e dei diritti fondamentali, piano piano si sono modificati sempre di più, l'esempio se vuoi più lampante è quello degli Stati Uniti d'America, ma questa evoluzione è stata condivisa in tutto il mondo e il tema della libertà che era centrale nel liberalismo classico e nei movimenti rivoluzionari dai quali emergono le nostre cosiddette democrazie occidentali è un tema che si è perso, che non ha più centralità nell'opinione pubblica, che non è più un tema e ancora oggi, dopo quello che abbiamo vissuto negli ultimi quattro anni, il tema della libertà non è centrale, non sono molti che si pongono il problema di come ripristinare, almeno in parte, quelle che dovrebbero essere delle ovvietà rispetto rispetto alla vita sociale, no? E che poi sono ricollegabili a un concetto di diritto negativo, noi siamo abituati ai cosiddetti diritti pretensivi, cioè sono diritti positivi di avere qualcosa, quante volte abbiamo sentito parlare del diritto alla casa, il diritto alla sanità, il diritto all'istruzione, eccetera, eccetera. In realtà questi sono dei non diritti, cosiddetti diritti pretensivi, perché coinvolgono inevitabilmente il fatto che qualcuno debba pagare questi famosi servizi e se non li vuole pagare i soldi gli vengono estorti con la forza o con l'inganno. Invece la libertà sarebbe un diritto negativo, cioè il diritto a essere lasciati in pace, il diritto a essere riconosciuti proprietari di se stessi, il diritto a essere riconosciuti titolari esclusivi della possibilità di decidere cosa avviene della proprietà privata, del proprio tempo e quindi il diritto a compiere le proprie scelte. Questo è stato progressivamente messo sempre di più in discussione e in effetti il 2020 è stato un po' uno shock, perché quello che normalmente non fanno, cioè che dicevo, normalmente la progressione è molto lenta, è quasi impercettibile, ogni giorno, ogni mese, ogni settimana c'è un altro piccolo pezzettino di libertà che se ne va via. Nel 2020 hanno tentato, diciamo così, il colpo grosso perché hanno abolito tantissime libertà individuali molto rapidamente da un giorno all'altro fondamentalmente e in parte gli è andata molto male questa cosa. Però era in preparazione, per esempio la famosa legge Lorenzin, di cui purtroppo molti come il Movimento Libertario, che fanno della libertà individuale il loro tema principale, non hanno colto, non hanno percepito la pericolosità immediata, perché alla fine si tratta di una multa, si tratta del fatto che i bambini non possono andare agli asili e quindi è stata un po' sottovalutata la pericolosità di quella normativa che invece era il grimaldello, il piede di porco con il quale sono entrati per andare a toccare bene al di là di quello che toccano normalmente, perché normalmente l'attacco è principalmente economico, per cui noi siamo impediti sia nel tenere quello che è legittimamente nostro, cioè ai nostri redditi e alle nostre ricchezze, perché ci vengono espropriate in un modo o nell'altro attraverso le infinite forme di tassazione. E poi siamo impediti nello svolgimento di una serie di attività che sono soggette a regolamentazioni, che quindi vengono sostanzialmente bloccate dall'intervento statale. Però con la legge Lorenzin, in realtà con altre leggi che l'avevano preparata e che non è la prima legge che impone determinati obblighi, c'è stato un salto di qualità, perché l'ingerenza dello Stato nella libertà delle persone va a toccare i corpi, cioè va a toccare una sfera di intangibilità che sembrava ovvia e che in teoria è ovvia in una serie di testi del diritto internazionale, ma che sono stati completamente disattesi a dimostrazione del fatto, purtroppo, che le Costituzioni, i trattati internazionali, per quanto belli, per quanto ben scritti, non sono un reale ostacolo rispetto all'azione di un'organizzazione violenta e coercitiva come possono essere gli Stati o le organizzazioni internazionali, è ancora peggio. Perché poi pensando anche alla scuola, cioè tu genitore, è vero che ci sono, no? Volendo le scuole parentali, ma quanti ostacoli comunque devono sopportare, spesso subiscono delle ispezioni, oppure magari non vengono considerate legittime o regolari, poi comunque devi andare a sostenere a fine anno un esame, no? Spesso ci sono dei trattamenti diversi per chi viene da queste scuole rispetto a chi ha frequentato la scuola normale, quindi tu sei quasi sostanzialmente obbligato a mandare il figlio a scuola e potrebbe essere giusto per la cosiddetta socializzazione, ma a, come dire, sorbirsi quella che è la verità, tra virgolette, di Stato, pensiamo al modo in cui viene raccontata la storia, a tutti questi progetti che negli anni sono stati inseriti in modo subdolo come progetti esterni, progetti speciali che vanno sempre in certe direzioni, quindi questa libertà di scelta purtroppo è stata negata quasi fin dall'inizio. Sì, ma poi la scuola, come diceva molto bene il tuo ospite in quella diretta che citavi, mi sono dimenticato il nome, non per mancanza di rispetto, la scuola ha una serie di effetti nefasti sull'educazione delle persone, intanto è un'istituzione totale, è come il carcere, è come l'esercito, cioè è una struttura all'interno della quale il bambino viene inserito e non può uscire sostanzialmente. L'offerta è la proposta di un modello unico, perché non è che ci siano possibilità alternative. La scuola è quello, è un'organizzazione che è strana della famiglia, è strana poi alla scelta sia della famiglia che dei bambini e dei ragazzi e che impartisce un determinato tipo di istruzione e ancora peggio, ormai vuole farsi anche il titolare del diritto all'educazione. Abbiamo sentito tutte le bufale e panzane sull'educazione sentimentale, l'educazione affettiva che dovrebbe essere responsabilità delle scuole e che fa salire di un ulteriore grado il livello di indottrinamento scolastico, perché va a inserirsi non soltanto sulle opinioni dei giovani per quanto riguarda la struttura, perché la scuola è il veicolo principale della propaganda statale, ma adesso vuole anche inserirsi nelle relazioni affettive, nella sessualità, in una serie di tematiche dalle quali in realtà la scuola dovrebbe stare completamente fuori o comunque dovrebbe essere il frutto di una libera scelta dei genitori e dei ragazzi e dovrebbe esserci una serie di alternative che invece non ci sono, perché anche l'alternativa finta pubblico-privato per quanto riguarda le scuole è apparente, nel senso che poi le scuole pubbliche o private che siano devono comunque impartire l'istruzione che nasce da una serie di programmi ministeriali e che sono obbligatori, quindi non c'è autonomia dell'insegnamento, non c'è autonomia nella scelta delle scuole, non c'è nessuna possibilità per i genitori di poter veramente scegliere l'istruzione che preferiscono per i loro figli e infatti come tu dicevi giustamente chi tenta di farlo attraverso l'educazione parentale poi spesso viene avversato. D'altro canto noi abbiamo parlato tante volte di disobbedienza civile, la disobbedienza civile e la sottrazione del consenso rispetto a questa struttura coercitiva nella quale noi siamo costretti a vivere dipende principalmente dalla creazione di menti libere e quindi la cosa più pericolosa per lo Stato e per, non è solo lo Stato, per tutti quelli che se ne servono poi per portare avanti i loro programmi più o meno turpi e lordi, la cosa fondamentale è impedire la nascita di persone consapevoli, di menti libere, perché le menti libere sono quelle che potrebbero revocare il consenso e potrebbero essere protagonisti della disobbedienza civile. Non c'è disobbedienza civile se sono tutti quanti incasellati, organizzati nella propaganda statalista e quindi questa è la cosa più pericolosa ovviamente per gli Stati e quindi la scuola si espande sempre di più in termini di indottrinamento. Vediamo quello che succede oggi, ci sono stati tanti che hanno commentato sui vari canali social quello che viene trasmesso ai nostri figli dalle scuole, dalla propaganda gender alle cretinate sul cambiamento climatico, per esempio se tu parli con la maggior parte dei giovani e giovanissimi non hanno nemmeno l'idea, l'ipotesi che le cretinate sul cambiamento climatico possano essere come sono una frode scientifica, perché questo viene martellato nelle teste dei bambini che non devono poter nemmeno pensare che ci possa essere un'altra realtà, questo serve tutta questa struttura ed evidentemente il successo è grande di questa operazione, che non toglie che noi cerchiamo di opporci e di fare qualcosa di diverso. Un'altra riflessione poi, passiamo anche ad altri temi, è sul concetto di autorità, cioè in linea di massima ci dicono che è una democrazia e quindi ci sono delle garanzie, ci sono dei diritti e dei doveri e però poi quando ci troviamo a che fare con la cosiddetta autorità che sia un magistrato, quindi un giudice o qualcuno delle forze dell'ordine, in realtà questa parità non c'è più, nel senso che comunque l'autorità per il potere che ha e che gli viene riconosciuto sovrasta comunque quello del cittadino. Viene spiegato dicendo che comunque qualcuno deve dirimere le famose controversie oppure per esigenze di pubblica sicurezza, spesso è questa l'espressione esigenza di pubblica sicurezza e però sta di fatto che tu non ti puoi porre con queste autorità come ti porresti con qualcun altro perché magari possono anche denunciare per i vari reati legati appunto ad esempio ai pubblici ufficiali e via dicendo. Quindi qui si vede proprio anche la faccia dello Stato in versione quasi del vecchio sovrano. Sì sì, il fatto che noi abbiamo una serie di reati di oltraggio che ancora esistono e che in realtà sono completamente incostituzionali come l'oltraggio al pubblico ufficiale, l'oltraggio al Presidente della Repubblica, il vilipendio delle istituzioni della Repubblica, il vilipendio delle forze armate, sono chiaramente il segno del fatto che si possono pensare alcune cose ma non tutte, alcune non si possono pensare e sono anche penalmente sanzionate se uno le pensa e le dice. Il che ti dimostra che l'idea della democrazia, la libertà che ci vogliono far credere che esistano in realtà è una bufala, non esiste nulla di tutto ciò e il rapporto fra Stato e cittadino è un rapporto tra sovrano e suddito. Poi ci dicono per darci il contentino che la sovranità appartiene al popolo, la sovranità non appartiene al popolo nemmeno un po'. La sovranità appartiene, che poi non dovremmo nemmeno chiamarla sovranità perché ha un connotato positivo il termine sovranità, il monopolio territoriale della violenza come lo chiamava Max Weber, mi sembra molto più appropriato come termine, il monopolio della violenza, il monopolio di una relazione in condizioni di disparità tra un gruppo di persone e un altro gruppo di persone, questa è la cruda realtà dei fatti. Io lo dico sempre, se c'è una frase che è una menzogna, è quella che sta scritta in tutte le aule di tribunale, si legge sempre la legge è uguale per tutti e non solo la legge non è uguale per tutti, nel senso che normalmente si intende che ci sono i corrotti, che ci sono quelli più ricchi e potenti che riescono a sfangarla più facilmente, la legge non è uguale per tutti perché è la legge a sancire una condizione di disparità tra diverse categorie di cittadini, ci sono una casta dominante che normalmente vive di parassitismo perché si alimenta di quello che producono gli altri e c'è un'amplissima classe di sfruttati che perché non si rendano conto di questa relazione di sfruttamento e di dominio di un gruppo di persone su un altro gruppo di persone, vengono tenuti nell'ignoranza vengono indottrinati attraverso le scuole, vengono sottoposti a una forma di propaganda che gli deve far credere delle sciocchezze fondamentalmente appunto tipo la sovranità appartiene al popolo, lo Stato siamo noi siamo noi che decidiamo, sono tutte solenni sciocchezze che devono mascherare quella che in realtà è una relazione basata sulla violenza o sulla minaccia della violenza che a volte è sufficiente non sempre il titolare della forza fisica deve necessariamente impiegarla può semplicemente minacciare l'utilizzazione della forza fisica ed è quello che normalmente accade però è cruciale che questo tipo di relazione basata su un diritto disuguale per cui le regole valgono per alcuni, non valgono per altri per cui alcuni hanno il diritto di derubare, uccidere, ridurre in schiavitù gli altri non deve essere chiaro, non deve essere evidente deve essere mascherato attraverso uno schermo propagandistico rispetto al quale ci sono tutta una serie di istituzioni che servono quella basilare e la scuola perché serve a indottrinare i bambini ma poi c'è l'istruzione superiore che è altrettanto importante che deve allevare una classe di professionisti e di intellettuali che devono essere tenuti accuratamente distanti da qualsiasi pensiero che non sia in linea con quello desiderato dalla struttura statale faccio un esempio forse banale ma semplicissimo io ho studiato giurisprudenza come tutti quelli che fanno il mio mestiere e io credo il giurista più importante dell'epoca moderna italiano è Bruno Leoni che ha esposto delle teorie sulla formazione della regola e sulla natura del diritto che sono fortemente eversive rispetto a quello che noi conosciamo Leoni ha scritto e detto tantissimo comunque metteva in dubbio la legittimità della legislazione cioè la possibilità che ci fosse un rapporto di autorità tra il legislatore che è lo Stato e i sudditi che devono obbedire alle norme che vengono imposte dall'atto e lui proponeva invece di riprendere quello che è stata la formazione del diritto per migliaia di anni che è la formazione del diritto romano che è il frutto di una continua ricerca effettuata da parte degli studiosi effettuata nell'ambito delle controversie giudiziarie che ha prodotto poi delle regole che sono state riconosciute come universalmente valide tant'è che sono ancora oggi la base del nostro diritto civile del nostro diritto commerciale beh un personaggio come Bruno Leoni che ha scritto dei libri importantissimi che è universalmente riconosciuto come uno dei più importanti filosofi del diritto dell'ultimo secolo io non ne ho mai sentito nemmeno parlare all'università perché veniva tenuto accuratamente al di fuori da quello che può essere un curriculum universitario e il curriculum universitario degli studi di diritto in Italia è caratterizzato da quello che si chiama positivismo giuridico cioè il giurista è un tecnico è un esperto delle esigesi di testi e il suo orizzonte è limitato a quello che si chiama ius positum cioè il diritto esistente il diritto stabilito con determinate procedure nell'ambito di un determinato stato o nell'ambito di una determinata organizzazione sovranazionale ma lì finisce la riflessione del giurista non deve mai andare oltre non deve mai interrogarsi sulla giustizia del sistema sul fatto che questa relazione tra legislatore e suddito possa essere in realtà una relazione malata e da rivedere criticamente perché questo non fa comodo non si vuole che questo accada e così tanti altri ambiti della conoscenza non si deve in nessun modo alimentare un pensiero critico tant'è che noi siamo arrivati ormai alla follia degli ultimi anni che è forse l'ultimo stadio di questa evoluzione in cui addirittura le scienze naturali che in teoria dovrebbero essere il luogo principale del dubbio scientifico della discussione, della libertà totale di messa in discussione di qualsiasi opinione ormai la scienza esatta viene definita in termini dogmatici ci sono alcuni articoli di fede veri e propri presentati come scientifici ma che non si possono mettere in discussione vedi il famoso cambiamento climatico o altre parti della scienza medica di cui abbiamo parlato tante volte e che pure ci vengono presentati come se fossero delle verità rivelate tant'è che questo atteggiamento è arrivato fino al mondo del diritto e abbiamo assistito al paradosso veramente allucinante della ex presidente della Corte Costituzionale che ci ha detto che la Corte Costituzionale segue la scienza anziché il diritto quindi siamo in una situazione dove ormai il dogmatismo è diventato la chiave principale di lettura della realtà non c'è più libertà di pensiero non c'è più nessun incentivo a chiunque abbia un pensiero diverso da quello della propaganda ufficiale Siccome Sonia chiedeva cosa ne pensi delle parole di Draghi noi ieri ci abbiamo fatto un pezzo soprattutto sulla parte che è ridondante quando parla Draghi ultimamente cioè vuole risparmi privati per finanziare appunto alcune delle cose che hai detto il green, le armi, la digitalizzazione allora sentiamo un attimo perché poi ho anche una domanda su questa unione di capitali di cui si sta parlando tanto che io non ho ancora ben capito per cosa si intenda esattamente una volta identificati questi beni pubblici dobbiamo anche dotarci dei mezzi per finanziarli il settore pubblico ha un ruolo importante da svolgere e ho già parlato in precedenza di come possiamo utilizzare meglio la capacità di prestito comune dell'UE soprattutto in settori come la difesa dove la spesa frammentata riduce la nostra efficacia complessiva ma la maggior parte del divario negli investimenti dovrà essere coperta dagli investimenti privati l'UE ha un risparmio privato molto elevato ma sono per lo più convogliati in depositi bancari e non finiscono per finanziare la crescita come potrebbero fare in un mercato dei capitali più ampio per questo motivo l'avanzamento dell'unione dei mercati dei capitali è una parte indispensabile della strategia globale per la competitività allora avete sentito bene non era uno sbaglio quando l'aveva detto l'altra volta risparmi privati quello che disse anche il ministro francese che c'erano i soldi troppi soldi dormienti e poi introduce subito dopo il tema dell'unione dei capitali cioè con un mercato di capitali più ampio questi risparmi privati è più facile che arrivino che cosa vuole dire perché tutti insistono anche Letta, La Lagarde, Della BCE vogliono a tutti i costi questa unione dei capitali diciamo noi qui abbiamo a che fare con dei volgari predoni una volta arrivavano a cavallo con le frecce nella faretra e lo scudo e quindi erano più facili da riconoscere quando arrivava Gengis Khan o Attila si riconoscevano molto bene e la gente sapeva di che cosa si trattava adesso l'equivalente moderno di Gengis Khan o di altri personaggi del genere magari è un signore come Draghi o La Lagarde sono in giacca e cravatta molto azzimati molto eleganti però poi il succo è sempre lo stesso quello a cui fa riferimento senza tanti mezzi termini Draghi è quello delle valute digitali in particolare la valuta digitale della Banca Centrale Europea questo significa l'unificazione del mercato dei capitali cioè una riforma monetaria in cui il denaro attualmente presente sotto forma di conti correnti bancari e sotto forma di contanti più difficile da rubare per questa casta di banchieri internazionali se invece viene trasformato in un denaro digitale controllato e gestito a livello centralizzato dalla Banca Centrale Europea è evidente che il furto diventa molto più semplice anche perché la possibilità concreta è quella di cui hanno già parlato varie volte di intanto di creare denaro a scadenza questo è uno dei progetti di cui stanno parlando moltissimo quindi costringere le persone sostanzialmente a spenderlo questo denaro e unendo questo con delle regolamentazioni su come si può spendere il denaro che già ci sono perché ci sono tutte le regolamentazioni ESG tutte quante le regole alle quali sono soggette le imprese per cui non si può più investire come si vuole l'investimento deve prestare omaggio alle politiche soprattutto ambientaliste cosiddette ambientaliste che in realtà non hanno nulla a che vedere con l'ambiente anche noi siamo purtroppo inseriti all'interno di quest'operazione propagandistica perché noi pure diciamo green diciamo ambientale diciamo i verdi eccetera eccetera non ha nulla a che vedere con l'ambiente è uno che vuole togliere di mezzo gli alberi e i campi coltivati per metterci delle delle celle fotovoltaiche o vuole metterci delle pale eoliche è qualcuno che sta operando contro l'ambiente che sta cercando di inquinare la natura e di sostituire la natura con qualcosa di artificiale di dannoso eccetera eccetera quindi è una delle tante operazioni di spostamento semantico di tipo orwelliano per cui adesso l'inquinamento si chiama green però di fatto questo è cioè è una colossale operazione industriale in cui non ritengono di aver rubato a sufficienza cioè ci deve essere un colossale trasferimento di denaro dal risparmio dei privati cittadini per andare a finanziare anche questo lo diceva Draghi abbastanza chiaramente nel suo discorso per andare a finanziare due cose uno l'industria bellica è quello a cui pensava e questo è il loro sogno di fare l'esercito europeo e arrivare a una spesa militare centralizzata e poi di espropriare sostanzialmente i fondi e i risparmi dei cittadini per andare a finanziare le loro politiche che significano molto concretamente lo spostamento di denaro in determinati settori industriali che sono quelli della produzione di energia con modalità inefficienti e dannose per l'ambiente come l'eolico o il solare o altre cose di questo genere di fatto però al di là delle parole con cui viene ammantata questa cosa si tratta semplicemente lui ha detto molto chiaramente nel suo discorso avete troppi soldi adesso veniamo e ve li rubiamo questo è quanto poi è chiaro che se lo dicesse così magari non avrebbe nemmeno la possibilità di candidarsi a fare il nuovo presidente della commissione europea adesso sta sgomitando per fare gli è andato male tutto e quindi speriamo gli vada male anche questo perché vorrà fare il presidente della repubblica e non gli è andata bene vorrà fare il segretario generale della nato e non l'hanno nemmeno considerato adesso sta tentando di trovarsi un posto a brussel speriamo che non ce la mettano ma non è che l'alternativa è buona perché vabbè probabilmente la von der Leyen dopo tutti gli scandali in cui è coinvolta magari per ragioni cosmetiche non la non la ripropongono ma ma comunque se non ci sarà Draghi ci sarà qualcun altro che magari è pure peggio di lui però evidentemente si sta si sta sta facendo una sua personale campagna elettorale e come sempre nella campagna elettorale vince chi promette ai suoi elettori di distribuire il bottino nel modo più efficiente e soprattutto più gradito ai suoi elettori quella è una campagna elettorale particolare quella per diventare presidente della commissione europea perché non ci sono non viene eletto dai cittadini come sappiamo gli organismi dell'unione europea che comandano e che contano qualcosa non vengono eletti dai cittadini però vengono scelti lo stesso e non vengono scelti da una persona sola c'è bisogno comunque di fare una sorta di campagna elettorale così come nella campagna elettorale normale tra virgolette i candidati promettono ai loro elettori di derubare qualcuno per favorire loro questa è la sintesi della campagna elettorale quando si dice vogliamo destinare più fondi a questo piuttosto che a quest'altro in realtà anche qui andrebbe tradotto vogliamo derubare qualcuno per dare i soldi di questo qualcuno a qualcun altro questa è la campagna elettorale e lo stesso vale per delle campagne elettorali diciamo di alto bordo come può essere quella che fa Draghi anche lui si propone come un super ladrone che vuole impossessarsi dei soldi di tutti i cittadini europei per destinarli alle cose che piacciono ai suoi amici e a quelli che evidentemente hanno il potere di farlo atterrare sulla poltrona di presidente della commissione europea io la leggo così ma mi sembra abbastanza evidente che l'intervista vada interpretata così mi sono recitato anche la BCE l'euro digitale oggi per bitcoin è una giornalità molto particolare perché è scattato il cosiddetto elving cioè viene dimezzata l'estrazione giornaliera questo per quel concetto base di bitcoin legato alla sua scarsità giusto? Sì ogni tot anni la quantità di bitcoin che possono essere prodotti attraverso il cosiddetto mining cioè i minatori che validando le transazioni creano nuovi bitcoin si riduce sempre della metà progressivamente la quantità totale di bitcoin producibili in base all'algoritmo che regola bitcoin sono 21 milioni in totale e quindi in questi giorni c'è il cosiddetto halving cioè il dimezzamento un giornale poi di quelli mainstream tempo fa non so se l'avevi visto ha scritto un articolo sul halving che si scrive appunto h-a-l-v-i-n-g viene da half cioè la metà dimezzare vuol dire halving e evidentemente il giornalista non sapeva di che cosa stesse parlando e ha scritto halving cioè a-l-v-i-n che mi sembra fosse un personaggio di un cartone animato e l'ha descritto così a dimostrazione dei giornalisti che abbiamo con i quali abbiamo a che fare comunque questo si è uno dei meccanismi di di scarsità di bitcoin per cui bitcoin vuole essere una sorta di oro digitale con questo halving il bitcoin diventa addirittura più scarso dell'oro in termini di possibilità di produzione e sicuramente questo poi ecco halving superstar dice Sonia giustamente con questo meccanismo sicuramente il bitcoin è destinato ad aumentare di prezzo poi è ancora una moneta ad elevata fluttuazione l'abbiamo visto può scendere può salire però nel medio lungo periodo comunque bitcoin è sempre salito e logicamente è destinato a salire se non ci sono altri interventi è un un tipo di moneta che deve necessariamente salire rispetto a tutti gli altri beni ed essendo una moneta libera in realtà meglio dell'oro e meglio delle relazioni tra le monete è quello che ti dimostra proprio plasticamente la perdita di valore delle altre monete in realtà noi quando diciamo bitcoin è salito commettiamo anche qui un errore di prospettiva come quando diciamo l'oro è salito un grammo d'oro è sempre un grammo d'oro è un fatto di peso non è che cambia così come un bitcoin è un bitcoin è sempre quello quello che perde di valore rispetto all'oro rispetto all'argento rispetto a bitcoin sono le valute fiat che essendo fondate sul nulla aria fritta fondamentalmente inevitabilmente devono perdere di valore rispetto a qualcosa che invece ha una sua concretezza fisica e materiale per quanto riguarda l'oro elettronica per quanto riguarda bitcoin ma in realtà pur sempre una sua concretezza e a proposito di questo mi piace sottolineare per l'ennesima volta tanti me lo chiedono a bitcoin che cosa rappresenta non rappresenta niente bitcoin è bitcoin così come l'ho un grammo d'oro cosa rappresenta non rappresenta niente è un grammo d'oro poi se uno se lo vuole comprare o non se lo vuole comprare è un altro discorso però non c'è un rapporto di rappresentazione tra un bene e un altro questo è quello a cui noi eravamo abituati quando esisteva la carta moneta convertibile in oro e quindi abbiamo ancora nella nostra coscienza collettiva diciamo così il ricordo di quando le banconote erano rappresentative di qualcosa in realtà anche oggi le banconote non sono più rappresentative di nulla perché non sono convertibili in oro e quindi forse in questo sono simili a bitcoin e all'oro nel senso sono rappresentative di se stesse e tendono naturalmente ad essere come valori identiche al valore della carta e dell'inchiostro diceva il grandissimo Milton Friedman soltanto un governo può prendere della carta di ottima qualità stamparla con dell'eccellente inchiostro e trasformare la combinazione tra queste due cose in un bene che è completamente privo di valore e questo purtroppo è quello a cui stiamo assistendo andiamo alle lezioni che vedo che c'è in chat chi dice che bisogna ecco dice mister Robby cercate di convincere la stenzione le persone di vostra conoscenza e dice Maria Cosaglia tutte le persone che conoscono hanno alcuna intenzione di votare innanzitutto dobbiamo dire che gira una cosa sbagliata e che questo dimostra la sciatteria di chi la fa girare ma anche purtroppo di chi la condivide hai visto quel gira un foglietto con cui c'è scritto c'è tutto il trend dell'affluenza in calo e si dice che se scala sotto il 50% sostanzialmente poi non so cosa succede se si fa in realtà è una fregnaccia ovviamente non succede nulla però è un dato che magari verrà ignorato è un dato che poi se tu ci fai caso alcuni sondaggi lo danno cioè la percentuale che si attende di votanti ma se ci fai caso nei sondaggi ti dicono il PD è calato di un punto è cresciuto di due punti la Lega è fratelli d'Italia non ci viene detto la progressione dei votanti perché quello potrebbe essere cioè se io i lettori so che comunque vanno a votare il 49% magari faccio un pensierino e dico facciamola diminuire ancora di più questa invece non lo danno come stai valutando ecco questo avvicinamento ancora mancano due mesi insomma alle elezioni dove chiaramente ci sono i partiti c'è il partito quello lì della Bonino addirittura che si chiama dice l'avvocato Mori proprio anche in modo diversivo Stati Uniti d'Europa poi c'è ci sono c'è Calenda ci sono i soliti noti la lista di Santoro tutto sulla pace ed è sempre in televisione e poi nel dissenso sicuramente il listone di Cateno De Luca con dentro Cugnall appunto Mori Amodeo e insomma e altri l'ex viceministro della Lega Laura Castelli poi non ricordo francamente chi c'è dentro questo mega listone e dall'altra parte c'è Democrazia Sovrania Popolare che certamente ha una linea di coerenza diversa perché viene da lontano ha preso tutta una sua strategia chiara fin dall'inizio sta raccogliendo le firme e chiaramente adesso volano stracci come dicevamo la settimana scorsa polemiche accese tra i due fronti ecco come vedi questo avvicinamento alle elezioni ma guarda le elezioni sono una farsa quindi è normale che anche l'avvicinamento alle elezioni sia farsesco come tutta quanta questa rappresentazione scenica vabbè come tu sai e come sanno i nostri ascoltatori io sono contrario ad andare a votare perché ritengo che sia al di sotto della mia dignità ma della dignità di ciascuno cioè io non accetto di farmi prendere in giro e quindi non vado a votare perché mi sembra che sia evidentemente una presa in giro poi diciamo questo vale normalmente per tutte le elezioni per quelle europee vale a maggior ragione perché ci fanno eleggere un parlamento che è un parlamento che non conta nulla perché il parlamento europeo non ha l'iniziativa legislativa quindi non è che i parlamentari possono presentare un disegno di legge di regolamento come si chiama le leggi europee e approvarlo non lo possono fare possono chiedere alla commissione di esercitare l'iniziativa legislativa che la commissione passa al consiglio e poi il consiglio che chiama il parlamento europeo a votare sui regolamenti che presenta non tutti perché ce ne sono alcuni che invece non hanno bisogno della collaborazione del parlamento quindi dal punto di vista legislativo il parlamento europeo non conta assolutamente niente proprio zero non conta niente nemmeno dal punto di vista politico perché la funzione che hanno normalmente i parlamenti cioè quella di garantire la permanenza in carica del governo attraverso la famosa fiducia non c'è nel caso del parlamento europeo il parlamento europeo vota sì il presidente della commissione ma non lo può mandare via la mozione di censura rispetto alla commissione deve essere votata da una maggioranza elevatissima adesso non ricordo sono due terzi o tre quarti del parlamento ma comunque una maggioranza impensabile che si raggiunga e quindi sta lì è addirittura credo meno importante del congresso americano che condivide questa caratteristica di non avere in realtà nessun potere sull'esecutivo perché sappiamo negli Stati Uniti d'America l'esecutivo è responsabilità del presidente però almeno negli Stati Uniti il presidente si elegge quindi comunque gli elettori hanno voce in capitolo sia pure nell'ambito di una farsa anche lì ricordiamoci le ultime elezioni però almeno sulla carta gli elettori hanno voce in capitolo sia sul potere legislativo attraverso le elezioni del senato e del congresso sia sul potere esecutivo attraverso l'elezione del presidente molto blando perché tutti i sistemi elettorali sono disegnati in modo che gli elettori in realtà non continuano nulla però nel caso del Parlamento europeo parliamo di un'ipotesi estrema di questa di questa irrilevanza costruita proprio a tavolino quindi andare a votare per questa gente francamente mi sembra una cosa talmente inutile io non mi farei nemmeno poi troppi scrupoli nel senso che votare non votare è assolutamente irrilevante il singolo voto è totalmente irrilevante tutta l'Unione Europea va a votare questi circa 720 730 deputati europei quindi immagina quanto può essere quanto può contare zero il singolo voto del singolo cittadino in Italia e l'Italia ne mette circa 80 di questi di questi personaggi quindi il singolo voto non conta niente se uno vuole andare a votare va a votare se non vuole andare a votare non ci va non cambierà minimamente la politica europea perché la politica europea in realtà la fanno come dicevo la commissione e il consiglio che sono i veri organismi che gestiscono l'Unione Europea tra le altre cose l'Unione Europea si è espansa sempre di più per cui è andata a svuotare la funzione legislativa di tutti i parlamenti che infatti sono diventati altrettanto irrilevanti a causa dell'esistenza dell'Unione Europea perché ormai buona parte delle leggi che vengono approvate in tutti i paesi dell'Unione Europea in realtà non sono altro che la traduzione nelle diverse lingue nazionali con qualche piccola differenza dei regolamenti che vengono dall'Unione Europea e che sono come dicevo principalmente la responsabilità del consiglio e il consiglio a sua volta è una riunione dei capi di Stato e dei ministri più importanti dei diversi paesi europei quindi noi abbiamo avuto in questi anni con l'espansione dell'Unione Europea uno svuotamento totale di quello che ci insegnavano essere uno dei principi fondamentali degli stati liberali cioè la divisione dei poteri si diceva una volta che il potere legislativo doveva essere separato dal potere esecutivo cioè il governo e il Parlamento dovevano essere totalmente separati noi abbiamo una situazione ormai in cui il potere legislativo è interamente in mano ai governi che lo esercitano con varie modalità una tra queste appunto è l'Unione Europea che poi passa quello che vogliono i governi riuniti ai parlamenti nazionali da noi abbiamo il sistema dei decreti legge comunque fatto sta i parlamenti tutti i parlamenti e quello europeo in modo superiore a tutti gli altri perché è il modello di questa evoluzione non contano niente e non sono più gli organismi che hanno in mano il potere legislativo sono degli organi che approvano quello che gli viene passato dai governi sotto varie modalità allora perché non votare non votare significa far capire a questa gente che abbiamo intuito il gioco che non ci stiamo che non ci facciamo prendere in giro e soprattutto gli andiamo a smontare un elemento fondamentale cioè quello della legittimazione in realtà non gliene importa nulla se votiamo la cozzaglia di Cateno De Luca piuttosto che la Lega il PD o chiunque esso sia non è importante chi viene votato e chi viene eletto l'unica cosa che gli interessa è che vadano un certo numero di persone a votare perché questo dà legittimità al sistema perché possono continuare a far passare la sceneggiata propagandistica che il sistema è voluto dai cittadini ecco visto sono andati a votare 40 milioni di persone quindi la democrazia ha trionfato quante volte ci sentiamo dire queste sciocchezze per questo è importante non votare perché significa sottrarre il consenso a questa enorme e colossale truffa e poi a me piace sognare da complottista quindi mi rivendico il diritto di sognare tu immagina se a votare andasse non dico nessuno ma pochissimi il 10% degli aventi diritto il 5% degli aventi diritto giusto lo stretto entourage dei politici e di quelli che mangiano con questo sistema il voto è legittimo sarebbe perfettamente legittimo ci sarebbero i loro bravi 720 730 deputati non cambierebbe niente perché non c'è un quorum però questa gente saprebbe che è stata votata dal 5% degli elettori gli manca la legittimazione gli manca il terreno sotto i piedi soprattutto un movimento di cittadini che non vanno a votare perché non ci credono ha un potere di disobbedienza civile infinitamente più più importante immagina se questo 90% di gente che dice basta ci siamo stufati di essere presi in giro sistematicamente dalla mattina alla sera dicesse anche non obbediamo più alle vostre leggi fate quello che vi pare potete scrivere tutte le leggi che vi pare la legge è un pezzo di carta l'unica cosa che le dà efficacia è il fatto che la gente più o meno si adegui anche se non ci crede anche se sa che è una cretinata ma la disobbedienza potrebbe acquisire un potere enorme e per questo dà tanto fastidio il non voto per questo sono così preoccupati che la gente non vada a votare quindi io sicuramente non voto e consiglio a tutti di non votare ma tranquillo si in Iraq studio come dicevano gli antichi romani quindi se volete andare a votare andate a votare pazienza vi voglio bene lo stesso però non conviene non è una scelta intelligente posso fare un parallelo forte forte ma siamo i complottisti quindi no quindi andare a votare non è come aver creduto al dio siero e ai suoi benefici effetti ma sì andare a votare scusami andare a votare e credere che serva qualcosa che cambino le cose può essere uguale ad aver creduto al dio salvifico ma penso sicuramente di sì poi c'è c'è la famosa frase attribuita a Einstein non so se sia vero oppure no lui diceva la definizione di stupidità è continuare a fare la stessa cosa e aspettarsi dei risultati diversi votare è un po' la stessa cosa quante volte abbiamo votato quante volte sono arrivati quelli buoni il partito degli onesti adesso cambieremo tutti abbiamo avuto la Lega che forse è stato il partito di protesta più radicale che voleva la secessione viva Dio magari l'avessero fatta la secessione dell'Italia settentrionale questo avrebbe spaccato definitivamente l'Italia sarebbe tornata alle sue origini ottocentesche anche loro sono comunque finiti in mezzo al sistema quindi lasciamo perdere e sono d'accordo con te credere a questa gente su qualunque cosa ci dicano dal siero salvifico alle elezioni e quant'altro significa farsi prendere in giro per questo dicevo anche un fatto di dignità noi abbiamo a che fare con un gruppo di mentitori seriali che ci hanno raccontato delle bufale raccapriccianti adesso tu menzionavi il famoso prodotto miracoloso non so se hai letto qualche giorno fa c'è stata un'udienza in un tribunale a Helsinki dove è andata a testimoniare una alta funzionaria dell'OMS la dottoressa Anna Noinek che ha detto che loro sapevano perfettamente che questa roba non funzionava che che il famoso passaporto sanitario verde non serviva a niente e che evidentemente questo carosello era stato messo in piedi soltanto per favorire determinati interessi economici e che interessi economici l'ha detto in un'aula di tribunale e non è che l'ha detto Frabetti l'ho detto io l'ha detto un'altra funzionaria dell'OMS che incitata a testimoniare ha detto queste cose in teoria sai in un mondo normale questa cosa doveva stare sulle prime pagine di tutti i giornali invece la raccontiamo noi stasera ma è così è una notizia che è stata diffusa e confermata e quindi sicuramente è quello che è successo e non si può credere a questa gente cioè qualunque cosa ti racconti non gli puoi credere io spesso lo cito torniamo alla nostra infanzia torniamo a un elemento costitutivo della nostra infanzia di italiani che è la più grande favola che è stata scritta in lingua italiana che è la favola di Pinocchio se c'è una cosa che la favola di Pinocchio deve insegnare ai bambini è di non fidarsi dei truffatori la storia del campo dei miracoli il gatto e la volpe le monete e Pinocchio perché diventa un bambino e non è più un burattino è significativa non è più un burattino in mano a qualcuno che può attirare i fili perché capisce che non bisogna fidarsi dei truffatori ecco torniamo proprio a questo livello elementare di insegnamento noi quando eravamo i bambini piccoli utilizzavamo la favola di Pinocchio per spiegare ai bambini vedi a Pinocchio come gli è andata male perché si è fidato dei truffatori ecco è la stessa identica cosa non ci fidiamo dei truffatori uno che viene e dice si vota per me perché così potremo cambiare le cose oppure vai lì fatti fare questa iniezione così guarisci e stai benissimo evidentemente è un truffatore e quindi lasciamo perdere no? Allora c'era per andare verso la chiusura poi si trova una cosa di guzzanti sul voto che me la ricorda a memoria ma non so se adesso riesco a trovarla mentre andiamo alla conclusione volevo quando faceva padre Pizarro che è stato secondo me un personaggio geniale di guzzanti ed una era veramente quello si scotta tu pensa sulla Rai no? c'erano sempre delle polemiche e quindi c'è stato un peggioramento ovviamente anche della libertà cioè ce n'era poca prima ma ce n'è di meno adesso e si parla di Amadeus che se ne va come se fosse insomma un evento cruciale per le nostre vite c'era una piangere per questa notizia eh sì non per tenere le lacrime allora anzi prima della domanda siccome l'altra volta ci fu un problema nel finale qui su YouTube e quindi non si è sentito il nostro appuntamento che per te è doppio a Porto X vi ricordo che stiamo raccogliendo le prenotazioni per la nostra festa di fine anno la festa estiva a Porto X saremo il 29 giugno a Lucignano in provincia di Arezzo in questo luogo bellissimo Alessandro farà due cose una legata a Border Knights e poi il giorno seguente farà un ulteriore evento sempre a Porto X ci saranno Davide Rossi Roberto Quaglia Stefano Re Iuri Berti Paolo Franceschetti i fondatori di Porto X che sono interessantissimi da ascoltare Valentina e Valentino tra l'altro si sono staccati dal sistema elettrico ce l'hanno spiegato tra qualche giorno fa qui sul canale Sandro Torella in collegamento Massimo Mazzucco Mirko Mariucci e chissà forse anche qualcun altro i posti sono più dello scorso anno quindi c'è ancora posto chiamate affrettatevi però questo è il numero 351-9936207 portofiattinox.com e tu Alessandro poi il giorno seguente farai altro il giorno seguente mi trattengo sempre a Porto X e con Valentino ne stavamo parlando già da un po' di anni sai Porto X si ispira un po' all'idea del porto dei pirati per questo si chiama Porto X e quindi parlerò di storia dei pirati i pirati dei Caraibi che è una storia interessantissima che forse non molti conoscono e che è strettamente legata poi alle idee di libertà e di liberazione dalle strutture statali che sono che sono state poi il il terreno sul quale si è nutrita la rivoluzione americana e quindi parlerò di questo tema che è un tema molto interessante per chi apprezza magari di sentire una storia un po' un po' revisionista un po' contraria a quella che viene raccontata normalmente allora c'è una domanda sulle buste paga digitalizzate cioè ci diceva una mail un'azienda così senza dire niente poi ha detto che insomma tutti i dipendenti devono fare un account per ricevere questa busta paga in digitale procedura legittima chiede questa amica credo amico non ricordo ma diciamo il dipendente ha sempre diritto ad avere la busta paga e non può essere costretto ad avere uno smartphone oppure un computer quindi è una procedura no che non è legittima l'azienda può dire chi vuole metto a disposizione la busta paga in forma digitale ma uno può tranquillamente dire al datore di lavoro io mi paghi troppo poco io direi così mi paghi troppo poco non mi posso permettere né uno smartphone né un computer quindi dammi la busta paga cartacea è un diritto questo sì del lavoratore di avere la busta paga tutti i mesi e quindi il datore di lavoro commetterebbe una violazione se non consegnasse la busta paga cartacea però attenzione a una cosa spesso c'è l'equivoco sul tema della tecnologia la tecnologia di per sé è neutra i computer i telefonini come dimostra questa serata stessa noi siamo qui perché c'è internet perché ci sono degli strumenti che ci consentono di parlare a distanza di condividere idee e quindi la tecnologia di per sé è neutra può essere utilizzata a fini benefici o a fini negativi quindi quello che ci deve far paura non è tanto la tecnologia quanto chi la maneggia e soprattutto dobbiamo renderci conto di una cosa fondamentale se io produco qualcosa di positivo cioè produco beni o servizi che qualcun altro desidera che vuole comprare di cui vuole servirsi indipendentemente dal costo dalle relazioni commerciali la tecnologia in realtà migliora le nostre possibilità di vita se invece la tecnologia sta in mano a chi produce mali sono tipicamente i governi e sono i loro compari perché anche qui attenzione a questa confusione pubblico privato come se tutti i privati fossero come il salumiere sotto casa ci sono moltissimi privati che in realtà sono proprietari o gestiscono i governi per i loro scopi abbiamo parlato adesso delle case farmaceutiche quindi è abbastanza evidente chi detiene tecnologia per la realizzazione di mali quindi per derubare la gente o peggio per ammazzare la gente è ovvio che quanto più è tecnologico tanto più è pericoloso il tema è che noi dovremmo veramente puntare io l'ho detto varie volte a far tornare all'analogico i governi soprattutto quindi via i computer via le stampanti vorrei rivedere gli impiegati quelli dell'ottocento quelli con le mezze maniche nere che scrivevano a mano questo dovrebbe essere la tecnologia in mano al governo è sempre pericolosa tu pensa alla guerra la guerra super tecnologica che viene combattuta oggi è molto più letale delle guerre che si combattevano una volta combattessero con l'arco e le frecce perché così fanno molto meno danni perché la tecnologia in mano al governo è pericolosa non è la tecnologia in sé che è pericolosa chi la detiene allora questo è come tutte le cose dipende l'uso che se ne fa chiaramente poi il passaporto mi scade a giugno di quest'anno ovviamente non me lo rinnoveranno in tempo per la partenza in Italia potrò comunque esibirlo all'imbarco la patente è o non è un documento di riconoscimento valido la patente è un documento di identità valido però all'interno dell'Italia non è un documento valido per l'espatrio se si viaggia all'interno dell'Unione Europea in realtà non c'è bisogno del passaporto però c'è bisogno se viene controllato di un documento valido per l'espatrio in aereo fondamentalmente viaggiando in macchina i confini non ci sono e quindi non c'è nessuno che ci controlla però consiglio all'ascoltatore di chiedere al più presto l'appuntamento per il rinnovo del passaporto è importante avere il passaporto in corso di validità e soprattutto un viaggio e magari un biglietto aereo possono essere un motivo per spingere per avere un appuntamento con maggiore urgenza e quindi può essere utile per farlo tra le altre cose il biglietto aereo e la scadenza può essere anche un buon motivo per chiedere la carta d'identità che in Europa è un documento valido per l'espatrio con procedure ad urgenza però è sempre bene avere in mano un documento per l'espatrio in corso di validità perché non si sa mai che cosa succede e magari se le cose vanno veramente male può essere intelligente andarsene e poi tiene banco sempre la storia delle impronte digitali rilasciate per la carta d'identità vorrei chiaramente dice Monica visto che l'avvocato aveva detto che non si è tenuti a rilascio delle impronte per la carta d'identità elettronica ma da tutti gli articoli letti online anche di avvocati si ribadisce il fatto che è obbligatorio il rilascio delle suddette impronte fermo che stando che non rinnoverò la mia carta d'identità cartacea mosegò il mio passaporto fino al 2032 mi chiedevo quale fosse in realtà la normativa la normativa è molto semplice ci sono due normative una è il codice dell'amministrazione digitale e nel codice dell'amministrazione digitale il decreto legislativo 82 del 2005 l'articolo 66 è indicato chiaramente non ci sono dubbi su questo che il rilascio dei dati biometrici secondari cioè le impronte digitali è facoltativo poi c'è una normativa europea che disciplina le carte d'identità e che dice due cose la prima è che le carte d'identità non leggibili dalle macchine a livello europeo quindi per varcare i confini saranno valide soltanto fino ad agosto 2026 poi dopo non lo saranno più e questa normativa dice che per il rilascio della carta d'identità leggibile dalle macchine è necessario anche il rilascio delle impronte digitali quindi uno può andare al comune chiedere la carta d'identità rifiutare il rilascio delle impronte digitali e chiedere una carta d'identità non valida per l'espatrio questa è la situazione legislativa che ne dicano gli altri colleghi non so che leggi abbiano letto poi c'è un problema pratico nel senso che ci sono moltissimi comuni che si rifiutano di farlo cioè se io dico voglio la carta d'identità non valida per l'espatrio senza impronte digitali che sarebbe valida come documento di identità in Italia ti dicono di no che la possono fare soltanto con le impronte digitali perché non sono organizzate adesso si può fare causa al comune per le impronte digitali della carta d'identità evidentemente no perché è una cosa che non ha senso anche perché è vero che bisogna cercare di opporsi in tutti i modi l'abbiamo detto mille volte mettere sabbia negli ingranaggi eccetera eccetera però queste benedette impronte digitali stanno sulla carta d'identità esattamente come stanno sul passaporto il passaporto non si può fare senza dare le impronte digitali perché a livello di controllo ai confini c'è il controllo delle impronte digitali poi è sbagliato l'abbiamo detto mille volte secondo noi i documenti d'identità non dovrebbero nemmeno esistere come documenti obbligatori ma questo è un altro tema e non lo risolviamo certo col funzionario del comune o col poliziotto che ci devono rilasciare la carta d'identità o il passaporto però le impronte digitali così come la fotografia non possono essere conservate dal comune per più di 90 giorni dopo devono essere cancellate perché c'è un regolamento anche qui dell'Unione Europea che dice che questi dati devono essere inseriti sul documento non possono essere detenuti dall'amministrazione quindi se uno vuole dare fastidio 90 giorni dopo il rilascio della carta d'identità o del passaporto scrive e gli dice avete cancellato i miei dati perché non se li possono tenere questi dati e gli chiede la conferma della cancellazione e a maggior ragione poi l'altro tema fondamentale di cui abbiamo parlato tantissime volte è che il problema non è che sulla carta d'identità ci siano le impronte digitali e che queste impronte digitali siano leggibili da una macchinetta di quelle che controllano i documenti al confine il problema è se noi questa carta d'identità digitale la attiviamo come identità digitale sul sito del ministero dell'interno che è una cosa che non è che fa il comune il comune ci rilascia un pezzo di plastica che ha un chip sul quale ci sono i dati biometrici la fotografia e le impronte digitali e i dati nome e cognome luogo e dato di nascita eccetera eccetera il problema è se noi questo documento lo attiviamo come documento elettronico non che ce l'abbiano dato sotto forma di pezzo di plastica anziché pezzo di carta quindi l'unica vera cosa fondamentale è quella di non attivare la carta di identità elettronica perché è un documento di identità digitale molto peggiore dell'alternativa attualmente esistente chi non può fare a meno di avere un'identità digitale ci sono moltissimi che non possono fare a meno perché se no non lavorano me compreso come avvocato è impossibile accedere ai vari servizi dei vari tribunali senza avere lo speed ma l'identità digitale meno invasiva che esiste attualmente è lo speed l'importante e l'essenziale è non scaricare l'app io non scaricare i t wallet e cercare di boicottare questi strumenti che sono infinitamente più efficienti dal punto di vista del controllo allora ho recuperato questa parte di Guzzanti con cui chiudiamo chiedeva a qualcuno se ad esempio può ritirare la scheda delle comunali e non votare le europee si può fare no? sì sì beh certo votare uno vota quello che vuole molti stanno stanno facendo questa scelta votano per il comune e non votano per le elezioni europee certo Guzzanti padre Pisarro di diversi anni fa ed è secondo me proprio perfetto ma amica mia l'ordine già esiste ed è quello che abbiamo stabilito negli anni 50 da una parte ci sono i comunisti e dall'altra ci sono gli anticomunisti è così che si gioca tu scegli per comunista tu scegli per anticomunista è come una partita scatti io faccio il bianco e te fai il nero è talmente semplice la gente le masse hanno bisogno di un nemico tu devi scegliere se qua cominciamo a passare da una parte all'altra la gente non ci capisce più niente i comunisti è una parte e gli anticomunisti è l'altra è semplicissimo io però pensavo ci fossero dei valori dietro no dico fatto prendere il colpo dei valori dietro la destra e la sinistra no? si parla di due schieramenti la destra e la sinistra ma come la destra e la sinistra? è la destra e la sinistra ma in che senso scusa? nel senso che ci ma tu credi veramente che esiste la destra e la sinistra? perché no? ma non esiste la destra e la sinistra sono cose che abbiamo inventato per la gente per farla andare a votare come? ma certo perché se la gente sa che non esiste la destra non esiste la sinistra esiste soltanto della gente che cerca di spartirsi il potere non ci va a votare no? ma che te frega se gli diciamo questo stanno a casa con televisione a guardarsi la partita non ci vanno a votare è come l'inferno e il paradiso mica esistono sono delle cose per far capire la gente non esistono ma che pensi veramente che quando un uomo della Marte va a cagullo c'è il forchettone con le conna dall'altra ci stanno questi con le ame che soppiccioni ma l'hai mai visto io non l'ho mai visto ma meraviglio perché sei giovane dico ma toglieni dalla montagna del sapone non esiste la destra e la sinistra prendiamo un esempio Berlusconi ma che gli frega dalla destra e la sinistra secondo te c'ha i miardi che gli escono dalle orecchie c'ha la barca c'ha la nave c'ha l'aereo c'è l'elicottero a casa c'ha un pezzo cioè voglio dire evidentemente non c'è cerca soltanto di prendersi un po' di potere scusi no non vorrei capire allora secondo te Berlusconi poteva pure fare leader della sinistra ma certo che poteva fare leader della sinistra e allora perché ha scelto la destra ma perché in quel momento si è liberato un buco sulla destra ma come ma scusa perché dopo che è caduto Cracci dopo che è caduta la democrazia cristiana da quella parte c'era un buco l'altra parte a sinistra era affollatissima te devi mettere in fila ci stanno i verdi i comunisti i posto comunisti i freddissini i posti essini i maroni bellissimo no ma guarda è la satira che poi descrive la realtà è un pezzo fantastico sì 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 veramente bellissimo eh sì meravigliava che con l'epoca in Rai andavano in onda cose di questo tipo anche questo è una di quelle cose che sono peggiorate costantemente in Rai ogni tanto qualcosa c'era c'erano delle trasmissioni mi ricordo che so alto gradimento negli anni settanta ancora c'erano passavano delle cose abbastanza pesanti pure e poi invece la censura è andata sempre crescendo eh sì come dice se gli diciamo che alla gente che è solo per spartire il voto lucevamo ecco non c'è non c'è pezzo di propaganda contro il voto fatto meglio grazie Alessandro ci vediamo la prossima settimana ciao Fabio grazie a tutti quello che sta succedendo è indegno di un paese civile e noi siamo quelli che stanno difendendo il fatto che l'Italia ancora rimanga un pochino un paese civile e vinceremo questa battaglia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti